Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. A Firenze, ricordiamo che dal 1 gennaio è entrato in vigore lo stop in ZTL ai veicoli a benzina Euro 1 e ai diesel Euro 2. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!